Il sindaco di Sansevero Un anno fa Sper giurava di essere pronto a tornare a fare il magistrato. Ieri a sorpresa ha annunciato che andrà a fare l'assessore comunale a Sansevero. In realtà Michele Emiliano, segretario regionale del PD, si sta preparando la corsa per la presidenza della Regione Puglia e di tornare a vestire la toga non sembra aver voglia. Ora potrà continuare a rimanere inaspettative e a curare la campagna elettorale. La lunga volata per le primarie e del resto comincerà ufficialmente domani, quando nella sede del PD pugliese i partiti del centro-sinistra si riuniranno per scrivere le regole che porteranno alla scelta del candidato governatore. Il PD avrebbe già fissato la data, il 26 ottobre chiede un allargamento alla società civile. Le forze più piccole nicchiano. Sarà interessante capire anche cosa farà Nichi Vendola alle prese con la crisi che sta tanagliando SEL. Intanto le grandi manovre sono iniziate anche dall'altra parte. Il leader pugliese di Forza Italia, Fitto, ha annunciato di voler fare le primarie. In pole position c'è il presidente uscente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, che però vorrebbe una coalizione unita. Da vincere, come già accaduto per le amministrative a Bari, c'è però la resistenza del nuovo centro-destra di Massimo Cassano, che pretende garanzie per correre insieme a Forza Italia. E intanto spunta il nome di un outsider molto interessante, quello del sindaco di Monopoli e consigliere provinciale uscente di Forza Italia, Emilio Romani, che non esclude di partecipare alla competizione nel caso in cui il partito decidesse di dar spazio alla generazione dei quarantenni.